Da due anni, da quando si è entrati nel vivo di tutte le procedure di finanziamento, il programma Agenda Urbana ha sempre dimostrato di essere tre più efficienti, preso a modello per cronoprogrammi rispettati e finanziamenti incamerati, nonostante le restrizioni della pandemia. In ballo ci sono progetti già finanziati per circa 20 milioni di euro, rischia seriamente però di rimanere ostaggio di una burocrazia comunale che perde pezzi. Il dirigente di riferimento, l'architetto Antonino Collure, è incaricato di coordinare anche l'autorità urbana, non ha più la copertura contrattuale e in tutta fretta la scorsa settimana ha dovuto passare le consegne all'ingegnere Fabio Filippino, che già segue uno dei settori più delicati, quello dell'ambiente, con annessi servizio rifiuti e cimiteri. Anche l'ingegnere però sembra sulla via dell'addio, potrebbe lasciare il municipio già d'inizio agosto, così il modello Agenda Urbana paga le conseguenze di una pianta organica anche per la batteria dei dirigenti veramente minimi. Il gruppo di lavoro e RUP sono con le mani legate, ci sono atti già pronti per le gare di affidamento dei lavori che necessitano di firme dirigenziali ma senza che si vedano dirigenti all'orizzonte. Un paradosso che potrebbe affossare lavori e finanziamenti, questo doveva essere il periodo delle gare d'appalto per procedure abbondantemente istruite, ora invece si fa fatica ad andare avanti. Il vice sindaco Terenziano Di Stefano, che con il settore sviluppo economico apposto Agenda Urbana tra le priorità, parla di una fiducia che in parte si perde. Ribadisce che l'assenza di collura pesa rispetto a procedure che il dirigente ha seguito passo dopo passo. In base alle valutazioni condotte dal gruppo di lavoro, riunitosi anche ieri, che ha seguito minuziosamente tutte le procedure, sono tre i progetti che necessiteranno di una ricollocazione con un capitolo di finanziamento differente. Si tratta del resto dei progetti più complessi, quelli per la messa in sicurezza dell'area del costone che si affaccia sul lungomare e i lavori del polo dell'infanzia Lapirandello. Gli altri progetti, invece, come spiega anche lo stesso Di Stefano, possono andare in gara se entro un mese si riuscirà ad avere un dirigente che se ne possa occupare con assiduità. Sicuramente l'assessore civico non si sarebbe aspettato di dover fare i conti proprio nella fase finale con uno stallo che, come conseguenza estrema, potrebbe far perdere i fondi. Seppur sia stato condotto un lavoro assai approfondito, affidato a Erupa, ai tecnici e ai professionisti esterni di agenda urbana, a maggior ragione dopo essere riusciti a superare le tante incomprensioni con gli uffici regionali, le scadenze sono fissate per il prossimo anno. Probabilmente anche il sindaco Lucio Greco dovrà farsene carico, cercando di individuare soluzioni che potrebbero essere decisive, anche per un altro programma di finanziamento che invece non è ancora entrato nella fase principale, qualità dell'abitare, che al Comune ha assegnato fondi per 30 milioni di euro rivolti ad interventi di riqualificazione urbana.